a vandali ciao ragazzi oggi il video dal letto all'ammalata maniera allora ci stanno tante belle a vandali ho fatto delle delle dei video su ok ho cucinato la cara mio figlio mi sente che puzza allora guardate che carino queste cose allora praticamente ho fatto dei video su youtube e su instagram e ci stavano tutte quelle cosine qua perché non ce le mettono almeno miglioriamo un po la l'effetto effetto effetto speciale effetto scenico volevo dire vabbè però c'è i capelli colore della rosa allora voi come state io sto ancora male sono preoccupata perché eh il 10 devo fare questa presentazione del libro del mio uno due tre quattro cinque questo è il sesto libro e però sono preoccupata perché mi puzzi i capelli di carne macinata perché se io ho la gola ancora così mi dà molto fastidio poi mi sono tappata in casa fino al sabato poi mi dovrò fare i capelli vabbè un attimino scappo dalla parrucchiera però fino a sabato a poco da us si sta a casa e oggi mi faccio peperoncino e cannella e a poco da us e come caspito si chiama quello peperoncino cannella arancio grattugiato poi mi faccio gli sfumi che con la quella della giuste e solo vabbè avete capito lì no perché se lo dico un'altra cosa porco di capelli down l'inalazioni vabbè dal naso e dalla bocca perché l'altra volta ho detto una cosa un po scena allora praticamente vi volevo raccontare madonna me sta carne mi puzza perché poi con tutto mio figlio fa carne macinata tutti tutti i sensi gli odori i doppi sensi e trick e track allora vi volevo dire che stavo cadendo dentro il canale porto canale nel senso al porto ci sono tutti quei massetti dove ti puoi alzare per fare la foto la foto cioè non è per fare la foto ci sono dei massetti allora io ho detto una mia amica mi metto perché voi sapete che se ti metti in alto noi che siamo basse la foto viene meglio dal basso se ti riprendo dal basso e tu stai in alto allora che ho fatto a porco di capelli down vedi mo io premo i capelli premo i capelli sopra il cuscino a porco da o stic e tac premo i capelli sopra il cuscino così e a porco da o se chiaramente ci starà un nodicino qualcosa mi fa male a porco di la madonna di cristo vabbè allora a un certo punto stavo là sopra e portavo degli zatteroni grandi che adesso muove li faccio vedere un un attimo che ve li vado a prendere voi faccio vedere da dove sono caduta mi potevo preparare prima però non fa nulla guardatevi un attimo il soffitto oddio se non li ritrovo a poco da us che bomba speriamo che stanno perché c'ho 30 mila paio di scarpe li ritroveremo oddio aiuto dove stanno allora non è bello lasciarvi non è bello ciò che è bello ma che bello che è bello non è bello lasciarvi così da soli allora vi porto con me nel nel mondo mio scarpario guardate quando sono imbecille a comprare tutte queste scarpe che poi la metà sta sotto però io ieri l'ho rimessa a posto e adesso vi devo far vedere da dove sono caduta vabbè chiaramente voi dite questo sta fuori di cocci ma ci sta pure oddio ragazzi guardiamo a rimettere tutto a posto eccolo qua oddio mo devo rimettere a posto tutto allora io ho caduto o sono caduta da questo trampolo oddio vedi poi la polvere perché l'ha le scarpe è chiaro vabbè da questo trampolo si vede bene lucio погù ha? moonshò? da questo trampolo che è molto alto è altissimo ciao lucia di ciao allora praticamente che è successo che io stavo devo rimettere le scarpe mi viene nervoso perché le scarpe chiaramente hanno la suola sotto e la suola ci sta la polvere perché non è che non ci cammino anche se ne sono tante però ci cammino con quelle e poi quando a Bucataus io dovrei comprare quelli scomparti che le mette una a uno non li metto mai li butto tutti così poi li ributto la polvere porco di capelli davano i miei urti i nervi allora praticamente io stavo con queste scarpe queste scarpe non è che sono tanto cioè se ci cammini a volte ci prendi pur la sorta però se scendi da un muretto e poi ho detto madonna ma come ho fatto porco di e la madonna oddio guarda ho tanti cazzotti ho detto ma come ho fatto forse c'era un sasso perché volevo capire se la scarpa era diciamo a Bucataus e tic se la scarpa era stabile e ci ho rifatto e ci ho rifatto l'amica mia rimaneva così ho detto va e ci ho ricaduto un'altra volta e lei mi ha rialzato quindi cioè rendiamoci conto allora praticamente rendiamoci e lei mi ha rialzato la terza volta che l'ho rifatto perché l'ho fatto tre volte oddio aiutatemi oddio la polvere di criscio di merda tutto qua tutta la polvere di merda là allora praticamente l'ho rifatto tre volte e quindi quando l'ho fatto l'ultima volta mi sono scastrata beh perché mi sono fatta malissimo 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 tanto malissimamente veramente sono sbattuto per terra proprio non riuscivo ad alzarmi sono intervenuti anche degli aiuti dei ragazzi che mi stavano guardando apocatau dei ragazzi che mi stavano guardando da lontano e avranno detto cioè avranno detto ha detto signora ma l'abbiamo vista cadere tre volte ma è successo qualcosa io ho detto no non è successo niente adesso è successo prima 50 anni fa vabbè comunque questo è un episodio e poi mi sono fatta veramente male ginocchia tutto quanto mi sono strappata pure la maglia e invece un'altra volta sempre per queste manie di replay ripetizioni di fissazione che io devo rivedere per esempio prenda una cosa la devo rivedere 50 volte ero andata a pocateus a stendere i panni e io ho la fissa dei capelli proprio forti che me le allisciavo e mi mettevo il coso qua qua non mi poteva toccare niente avevo quelli che ecco stavano qua quando me li faccio lisci tutti quanti le punte trick e track bomba a mano a un certo punto che ho fatto sono andata a stendere i panni e mi era caduta una cosa per terra mi era caduta una cosa per terra e io per raccogliere mi sembra che ho sbattuto lì ai panni bagnati i capelli però bagnati bagnati per modo di dire perché erano panni già strizzati dalla lavatrice porco di capelli allora porco di e di merda e porco di e di merda trick e track e mo vedi sto parlando con voi sto pezzare le scarpe allora praticamente ehm sono andata a prendere un come si chiama oggi un vizio che il naso sono andata a prendere tutto quello mi sto a mettere i peperoncini e cose ero andata a prendere un uno specchio per vedere il movimento se c'era attaccata mi si era attaccati i capelli chiaramente barcollando perché io tremo mi sono cascata con lo specchio e mi sono tagliata il pozzo qui è venuto mio figlio mi si è arrabbiato ho detto ma insomma queste cose non le devi fare poi lui sa che non è che lo faccia apposta e insomma siamo andati a mettere i punti al qua che poi qua quando ti tagli questi punti qua oppure lo qua oppure qui sopra le ciglia ti esce porco da usettando di quel sangue a non finire è tremendo allora questo per raccontarvi delle mie manie ma ce ne stanno tanti di episodi che mi sono successi che poi faccio il replay vado a parte tipo degli ascensori no entro poi riesco rientro riesco rientro tre volte oppure tre quattro oppure se tocco una persona la tocca al seno la tocca insomma sempre tre volte devo ritoccare però questa cosa che stava a cascare dentro il canale insomma perché poi mi sono barcollata e sono andata davanti però la prima volta stavo andando dentro il canale e bello non è perché lì è un po' particolare insomma la storia e non sarebbe stato bello cadere lì però purtroppo questo è quanto allora io vi saluto ragazzi e vi dico che chi è nelle zone limitrofe a Porco d'Aus se venite a Giulia Nova alla mia presentazione del libro mi fa piacere abbracciarvi salutarvi e mangiarci un pezzo di torta insieme e lo spumante e se non potete venire me lo ordinate ve lo farò arrivare tramite Instagram o dove mi volete chiamare e ve lo faccio arrivare perché questo libro me lo sono prodotta da sola un bacio grande vi voglio bene vi voglio bene vi voglio bene